A pochi passi dalla splendida locanità di Torre a Mare, nel prestigioso complesso residenziale Victor Park, vi proponiamo una magnifica villa al piano terra. Questa residenza combina eleganza, comfort e una connessione profonda con la natura circostante, offrendo un'esperienza abitativa pubblica. All'ingresso sarete accolti da un giardino curato, un piante e alberi rigorosi, che crea un'oasi di verde e tranquillità. La villa gode di un'ottima esposizione, garantendo luminosità e una piacevole vista mare dal giardino anteriore. Entrando, si accede da un ampio salone, con zona pranzo, ideale per accogliere amici e familiari. Il cucinello adiacente, funzionale e ben organizzato, conduce al giardino interno, un vero e proprio angolo di paradiso, formolili, alberi da frutto, una zona relax e un'area barbecue. L'envissimpegno si accede alla zona notte, composta da una camera da letto e un bagno privato, e una cameretta con accogliere su un giardino esterno. Il bagno padronale, rifinito con materiali di alta qualità, offre comfort e stile. La mina dispone di una lavanderia e diversi ripostini, garantendo spazio e praticità. Il riscaldamento autonomo e il sistema di climatizzazione assicurano un ambiente confortevole in ogni stagione. Il verde circostante è arricchito da olivi, limoni e siepi decorativi, creando un'atmosfera serena e piacevole. La proprietà è completata da comodi posti auto, situati all'interno del complesso con servizio di portierato e spazi comuni, tra cui campi da tennis e basket. Non perdete l'opportunità di vivere in un ambiente esclusivo e raffinato. Contattateci subito! Ciao, alla prossima!